Una vittoria per celebrare una vittoria? Una vittoria per continuare quello che stiamo facendo e vediamo se riusciremo a portare avanti questo percorso. Avete dimostrato una capacità di concentrazione non comune a neanche tre giorni dalla vittoria della Coppa Italia, avete dominato contro una squadra che comunque non era facile da affrontare? No, loro sono un'ottima squadra, noi abbiamo dimostrato il fatto di essere cinici, stiamo imparando ad esserlo e questi sono i risultati. Adesso vi aspetta Perugia che sarà arrabbiata per aver visto la Coppa da spettatrice e carica al punto giusto. Perugia sarà arrabbiata perché comunque per loro è uno scontro fondamentale come per noi, quindi tutte e due abbiamo in ugual modo, dobbiamo vincere la partita.